buongiorno oggi andremo a cambiare il filtro gpl della nostra auto questo è un impianto van di lenzo e ci sono diversi tipi di filtri il loro compito è quello di prevenire che delle impurità arrivano al rail iniettore dove abbiamo i nostri iniettori ovviamente il filtro ha un ingresso e una uscita in questo tipo di filtro abbiamo la scritta in dove entra il gas out invece dove esce quindi auto deve andare verso gli iniettori in invece l'ingresso che va dal vaporizzatore verso l'iniettore ma questo è già usato quello nuovo che utilizzerò è questo che va montato con questa scala natura verso il rail iniettori ho disegnato la freccia ho segnato i chilometri ai quali lo vado a cambiare l'auto a 551 mila chilometri quindi l'ho segnati sullo filtro gpl ma rimuoviamo le fascette uscirà un pochino di gas rimuoviamo il tubicino del gas dal filtro questo filtro va cambiato ogni 15 mila chilometri inseriamo il nuovo filtro gpl seguendo il senso della freccia la freccia deve puntare verso il rail iniettori non dimentichiamoci di rimettere le fascette il diametro di questo filtro gpl deve essere di 14 millimetri quindi dobbiamo acquistare un filtro gpl che ha l'ingresso e l'uscita di 14 mm di diametro ci vediamo al prossimo video ciao